come installare correttamente una lavatrice con carica frontale la prima cosa che dobbiamo fare è quella di sbloccare la vasca come potete vedere il cestello gira ma la vasca è bloccata quindi ci posizioniamo sul retro e sganciamo il tubo così da poter accedere a queste viti quindi con una chiave del 10 a tubo svitiamo questa questa e quest'altra vite con una pinza pappagallo afferriamo questi e li estraiamo e applicate questi che trovate insieme alle istruzioni all'interno della lavatrice come potete vedere la vasca adesso è sbloccata una volta posizionata la lavatrice e collegati tubi verificate che sia ben bilanciata e che non zoppichi e nel caso regolate i piedini con la chiave che trovate al suo interno se nelle istruzioni non trovate nessun riferimento alla bilanciatura il mio consiglio è quello di sollevare un po i piedini davanti in modo da dare un po di pendenza nella parte posteriore così da evitare depositi di detersivo all'interno del cassetto e per farlo potete utilizzare questo accessorio sollevate un po i piedini frontali finché non vedete che la bolla che si trova qui al centro vada a finire sulla destra comunque se vi serve costa un paio di euro lo trovate su amazon vi lascio il link in descrizione e nel primo commento quindi adesso colleghiamo il tubo di carico come potete vedere la guarnizione è già montata sul tubo se per caso fate fatica ad avvitarla è molto probabile che l'avete puntata male considerate che questa ghiera va avvitata praticamente a mano così senza fatica dopodiché stringete bene questa potete stringerla a mano senza dover utilizzare nessun attrezzo per quanto riguarda il tubo di scarico applichiamo una fascetta mettendola nella posizione che c'è più comoda la inseriamo sul raccordo e stringiamo la fascetta